Italia 1! Genio dell'incredibile, maestro dell'imprevedibile. Esatto. Oh, presso poco. Investigatore dell'impossibile. Spremerò tutta la mia non trascurabile esperienza. Su Italia 1, due serate all'insegna del mistero. Lo ammetto, non è il mio travestimento migliore. Domani sera alle 21.10, Sherlock Holmes. E mercoledì 4 febbraio alle 21.10, Sherlock Holmes, gioco di ombre. C'è una passione che gioca con i nostri sentimenti, ci fa ridere, ci sorprende ogni volta e ci fa sognare ad occhi aperti, ma anche chiusi. È la passione per le grandi storie e da oggi possiamo emozionarci ancora di più. Con la connessione veloce di Telecom Italia puoi avere Team Vision, la TV on demand da vedere quando vuoi, anche da PC, tablet e smartphone. Pensa di farcela lì? Voglio dire, è abbastanza ripido. Forse ha bisogno di aiuto. Ok, ce la fa a premere quel bottone. Opel Mokka con Hildesand Control. Il meglio dell'ingegneria tedesca. È una tedesca. Mokka, due volte 4x4 dell'anno in Germania. Mokka 2015 a 16.900 euro. Oppure oggi tasso zero. Respiro intenso, freschezza sorprendente. Goli Active Plus senza zucchero. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Con questa la usi solo il 2. L'altra sera ho conosciuto la maiale, tu fai so' un buco, lo portate sul zoom e gliel'ho buttato! Italiano Medio, al cinema. Se hai un incidente e chiami Genial Lloyd al telefono o con l'app, hai un esperto incidenti che ti segue come un amico invisibile. E puoi risparmiare sulla polizza auto. Fai un preventivo. Conveniente, sempre presente. Genial Lloyd, una società allianza. Prima di sottoscrivere, leggi il fascicolo informativo. Con i nuovi motori Euro 6 Pure Tech e Blue HD e con il Grip Control. Ora, guarda, ama, sogna, vivi la città con occhi nuovi. Peugeot 2008, il City Crossover. E in più su tutta la gamma Peugeot, 12 mesi di RCA gratuita. Peugeot. Scopri le nuove caramelle The Natural Confectionary Company. Deliziose, morbide caramelle al gusto di frutta che ti portano in un mondo di immaginazione e divertimento. Senza aromi e coloranti artificiali. Scopri gli animali e i dinosauri di The Natural Confectionary Company. Italia 1! Allora, mi chiamo Hilary Blasi e ho quasi 19 anni. Sono studentessa, frequento l'ultimo anno di liceo scientifico, quindi quest'estate avrò la maturità. Quali trasmissioni ti piacerebbe poi fare invece? Beh, varietà, quiz, fuego, target, striscia la notizia, passaparola, insomma, questi qui divertenti. E invece condurrà le iene. Da giovedì 29 gennaio su Italia 1. Oh, attenzione, stavolta le iene sono al giovedì. Da oggi la Coop costa meno. Abbiamo abbassato il prezzo di oltre 2000 prodotti a marchio Coop e grandi marche. È un impegno quotidiano, non una promozione. La Coop sei tu.